La gara di appalto da oltre 300 milioni di euro per la nuova tangenziale è in fase avanzata. Ad inizio mese Anas ha dato comunicazione della gradatoria stilata. La migliore offerta sarebbe quella dell'azienda Campana ad Agostino, dell'omonimo gruppo che opera in diversi settori, comprese le infrastrutture. Non c'è ancora l'affidamento vero e proprio. Anas però segue tappe piuttosto celeri per lavori che rientrano nell'elenco delle priorità. L'intero iter è stato seguito da un commissario. Proprio dagli uffici di Anas sono partite le comunicazioni per le procedure di esproprio delle aree nelle quali verrà realizzata l'infrastruttura. Viene precisato che il progetto definitivo è già stato approvato e che gli adempimenti vanno avanti. Inoltre Anas fa leva sulla dichiarazione di pubblica utilità già riconosciuta. La Sisee Civica approvò inoltre la variante preliminare. L'opera è attesa da anni e i fondi sono stati confermati dal nuovo governo Meloni. I cantieri impiegheranno molta mano d'opera locale. Per i sindacati si tratta di una tappa importante per l'edilizia che soffre di una crisi attenuata solo dagli investimenti del bonus 110%. Con le procedure di esproprio in atto si va verso la fase finale che precede i lavori. Sono previsti ulteriori 3.800.000 euro per la progettazione esecutiva, 2.500.000 euro per il piano di monitoraggio ambientale ante operam e in corso d'opera, oltre a circa 9 milioni di euro per gli oneri sulla sicurezza. In base alla tempistica dettata si prevedono 1.825 giorni per la realizzazione. Gli stanziamenti sono previsti nel Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, nel contratto di programma 2014-2016, ancora nel Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Sicilia e infine nella Legge di Bilancio 2022.